Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV apriamo parlando di violenza contro le donne fra tre giorni il 25 novembre la giornata mondiale della lotta appunto contro la violenza sulle donne e dalla questura di Arezzo arrivano dati che vanno assolutamente insomma letti in maniera importante ovvero l'aumento degli ammonimenti da parte del questore di Arezzo il dato è emerso durante la conferenza stampa di presentazione di un particolare protocollo sentiamo siamo in un momento molto critico molto particolare e ci rendiamo conto della necessità di dover fare tutto il possibile per combattere con anche nuovi strumenti la violenza sulle donne sono quasi raddoppiati gli ammonimenti del questore nell'aretino nell'ambito delle violenze domestiche dei maltrattamenti degli atti persecutori si è passati da meno di 20 nel 2022 a oltre 30 nel 2023 si tratta di un atto amministrativo che viene firmato dal questore notificato alla persona che maltratta perseguita o peggio ancora mette le mani addosso a qualcuno è un provvedimento amministrativo che richiede un'istruttoria particolare un'istruttoria accurata vengono sentite eventualmente anche persone diciamo oltre all'interessata che hanno notizia del diciamo del comportamento che è stato posto in essere è una misura introdotta dalla legge 69 del 2019 meglio conosciuta come codice rosso e di fatto rappresenta un avvertimento perentorio a interrompere una condotta che ha rilevanza penale viene spiegato al soggetto che è ammonito il disvalore sociale del comportamento che ha posto in essere facendogli capire che è un comportamento che è previsto dal codice penale come un comportamento reato purtroppo le cronache di questi giorni ci confermano che anche in caso di ammonimento la violenza si consuma un maltrattante tende a replicare il suo comportamento se lo interrompe con la compagna sulla quale siamo intervenuti tende a replicarlo su quella che verrà dopo e quella che verrà ancora dopo quindi un uomo maltrattante che abbiamo recuperato quattro donne che diciamo non subiranno esatto violenza quindi ci crediamo fortemente possiamo dire che con la forma e il provvedimento dell'ammonimento io ne ho firmati diversi Arezzo forse tanto tranquilla non è e quindi ecco che sorge l'esigenza nasce l'esigenza di trovare tutte le possibili partnership per combattere il fenomeno e l'abbiamo trovato nel CAM il CAM centro accoglienza uomini maltrattanti a sede a Firenze è con loro che la questura di Arezzo ha firmato un protocollo di intesa nelle scorse ore gli uomini che ricevono un ammonimento possono dunque ma solo volontariamente rivolgersi a questa associazione un percorso di recupero che è quindi possibile anche se al momento solo il 2% degli uomini sceglie di intraprenderlo sono gli uomini che sono intorno a noi, sono i nostri fratelli, sono i nostri cugini, sono i papà degli amici dei nostri figli e quindi non dobbiamo parlare di mostri ma dobbiamo parlare degli uomini intorno a noi è stato condannato a 8 mesi di reclusione con pena sospesa un quarantenne che era accusato di aver compiuto molestie sessuali e atti sessuali nei confronti di due ventenni durante una serata del Mengo Festival era il luglio del 2022 e le ragazze avevano 18 e 21 anni sul posto intervenne la polizia e di lì appunto poi è scattata la denuncia il quarantenne come dicevamo era accusato di molestie per l'abbraccio di una giovane e di atti sessuali invece per quanto è raccontato dall'altra ieri la sentenza, l'uomo è stato assolto per quanto riguarda le molestie ed è stato però condannato a 8 mesi appunto per atti sessuali furto in stazione scatta la denuncia da parte della polizia per un 47enne residente in Valdarno era tutto successo la settimana scorsa a Montevarchi una donna di 65 anni, un medico dopo aver parcheggiato la propria automobile proprio nel posteggio di fronte alla stazione ferroviaria era scesa e stava scaricando un troll e i contenenti i suoi effetti personali ha risposto al cellulare e quando si è girata la valigia la valigia non c'era più la polizia di stato ha individuato attraverso le registrazioni delle telecamere di videocontrollo presenti in zona il responsabile come dicevamo è stato denunciato apriamo adesso la pagina dedicata al forum Risk Management in corso ad Arezzo fino al 24 di novembre iniziamo con questo primo servizio dove si tocca proprio l'argomento del ruolo delle donne in sanità e poi l'altra grande sfida della sanità pubblica dei prossimi anni ovvero la transizione digitale il ruolo delle donne in sanità questo uno dei temi peraltro una novità di questa diciottesima edizione del forum Risk Management la sfida della sanità pubblica in corso ad Arezzo le donne oggi hanno una grande responsabilità anche perché sempre di più stanno assumendo ruoli nella governance e anche nella pianificazione degli interventi e quindi questo deve portare un vantaggio alla sanità pubblica che penso sarà misurabile tra i temi in questo secondo giorno di lavoro anche la medicina di genere siamo oggettivamente diversi nella risposta alle infezioni nella risposta ai farmaci nella capacità diciamo di rispondere anche a vari stimoli dall'esterno quindi c'è bisogno di studi, c'è bisogno di approfondire le conoscenze in questo campo per andare incontro ad una medicina sempre più personalizzata le donne possono dare quell'in più che hanno dentro voglio dire come intelligenza, come flessibilità, come capacità di adattamento come fantasia, come determinazione per far sì che il sistema sanitario abbia ancora più contributi proprio sul tema dell'innovazione ed è questa la sfida più importante della sanità del futuro l'inserimento delle nuove tecnologie grazie ai fondi PNRR Il piano nazionale di paese di residenza è anche in questo caso una grande opportunità perché lei sa bene che da dei target e dei milestone per cui bisogna rispettare assolutamente queste scadenze le dico una per tutte nel 2026 dovremo avere il 10% dei pazienti over 65 in assistenza omicidiana integrata se lei guarda i piani operativi che abbiamo appena ricevuto da tutte le regioni scoprirà che mettendo insieme tutti quelli che saranno in telemedicina in tutte le regioni d'Italia saranno circa 800.000 persone già con questo numero noi raggiungeremo il target dell'assistenza omicidiana integrata A fare il punto sulla transizione dei sistemi informatici in sanità è stato anche Stefano Lorusso direttore dei sistemi informativi della digitalizzazione del servizio sanitario nazionale Basti pensare al progetto di telemedicina e al progetto del fascicolo di sanità elettronica e soprattutto la dimensione della qualità e del miglioramento delle cure La trasformazione digitale in questi progetti rappresentano dei pillari importanti sia per i nostri operatori perché gli consentiranno di avere degli strumenti per collaborare, la possibilità di avere dei dati nel fascicolo e la possibilità di valorizzare il teleconsulto ma anche per i nostri assistiti perché in prospettiva il fascicolo deve diventare un punto unico di accesso anche ai servizi sanitari L'altro nostro approfondimento sempre dal forum Risk Management come dicevamo in corso ad Arezzo è invece sul mondo dell'emergenza urgenza Sentiamo Il vero problema ora dell'emergenza urgenza diciamocela francamente è la mancanza del personale Mancanza del personale soprattutto medico perché c'è una perdita di vocazione da parte dei medici per fare questa specialità dovuta probabilmente al lavoro soffocante e l'altro cercare di elevare il livello del personale infermieristico a un target superiore di modo tale da fare in modo tale che i medici possano veramente fare quello che gli compete per la loro specialità Si è parlato anche della medicina di emergenza urgenza al 18esimo forum Risk Management in Sanità realtà sempre più sull'orlo di una crisi di abbandono a mancare specialmente medici una problematica che ormai va avanti da anni Noi bisogna alzare il livello tutti questo sarà di sicuro a mio avviso il futuro che dovremo affrontare perché se no difficilmente ne usciremo certo poi c'è le tecnologie c'è i software c'è tutta una serie di situazioni che aiutano i medici per togliergli la parte burocratica è molto importante il pronto soccorso c'è un'alta percentuale di tempo perso in burocrazia anche quello sarà un qualcosa di importante da fare Nell'ambito del 18esimo forum Risk è stata anche organizzata una gara di simulazione in emergenza urgenza denominata Prima Coppa Simeu che ha visto partecipare sei squadre della regione toscana a risultare vincitore il team del pronto soccorso di Arezzo La simulazione in tutte le specialità mediche è fondamentale nella medicina d'urgenza direi più che fondamentale quindi siamo contenti di aver fatto questa manifestazione in cui c'erano molti giovani ma anche non giovani con squadre fatte da persone che lavorano insieme quindi con dei medici, degli infermieri, degli os che lavorano tutti i giorni al loro fianco quindi un qualcosa che va veramente oltre la simulazione e poi alla fine niente siamo riusciti sono felice per il mio gruppo di Arezzo che ha dimostrato che insomma le competenze ci sono la voglia c'è e andiamo avanti Siamo molto delusi dallo scarso interesse che il governo sembra porre sull'assistenza agli anziani non autosufficienti sottolinea Angelo Galletti presidente di ANAP confartigianato la legge di bilancio pare ignorare completamente un ambito del welfare sul quale riteniamo sia invece necessario focalizzare una massima attenzione la tematica era stata affrontata a livello regionale anche con il convegno dello scorso settembre ospitato proprio ad Arezzo questo immobilismo continua Galletti non è tollerabile se è necessario agire senza indugi per iniziare a dare sollievo alle pressanti necessità delle persone appunto che vivono la disabilità o la non autosufficienza cambiamo decisamente argomento e parliamo di due mari al liceo Redi un focus organizzato dalla brigata amici dei monumenti le infrastrutture vanno fatte certo bisogna trovare il modo di coprirle con un manto di etica parlando esigenza infrastrutturale e tutela del paesaggio questo è il titolo del convegno organizzato dalla brigata amici dei monumenti nell'aulamagna del liceo Redi di Arezzo nel quale è stata ripercorsa la storia della E78 L'esigenza di unire il Tirreno e l'Adriatico esiste da diversi secoli e la brigata non ha le competenze per poter prendere una posizione e non prende posizione abbiamo ritenuto doveroso interpellare investire l'ordine degli ingegneri Sono oltre 60 anni che la Due Mari attende la conclusione per poter collegare finalmente il Tirreno con l'Adriatico Il primo atto di programmazione della Due Mari risale al 1958 poi nel 1981 quando io ero ancora giovane ingegnere presso la provincia d'Arezzo fu interessato a seguire la progettazione della Due Mari nel tratto aretino Devo dire che un risultato è stato ottenuto perché il tratto più difficile dal punto di vista orografico che è quello tra Palazzo del Pero e le Ville è stato realizzato ma ci è voluto circa 20 anni poi ancora siamo in discussione negli altri tratti in particolare fra le Ville e l'innesto con l'AE45 ma soprattutto fra San Zeno e lo svincolo della Magnanina e siamo nel 2023 questo è il problema Una comunicazione di servizio ma è importante per chi si deve mettere in viaggio sulla A1 Milano-Napoli per consentire lavori di ristrutturazione delle pensiline sarà chiusa la stazione di Monte San Zavino sia in entrata che in uscita nelle due notti di lunedì 27 e martedì 28 novembre con orario 22.6 del mattino Mobilità più sostenibile Arezzo più sicura si intitola così il convegno organizzato dalla FIAB di Arezzo in programma per il prossimo 25 di novembre dalle 9 alle 13 alla Borsa Merci il trasporto urbano basato principalmente su mezzi privati e a motore dice il presidente FIAB Enrico Valentini rappresenta un insieme di fattori di rischio per la salute per l'ambiente e per la vivibilità la mobilità sostenibile è uno degli strumenti da per mitigarli avere una città meno inquinata e più sicura tra i fattori determinanti gioca un ruolo dice Valentini di primo piano la mobilità ciclabile ad Arezzo pur a fronte dell'incremento di infrastrutture come piste ciclabili o percorsi ciclabili non corrisponde un aumento di ciclisti allora il convegno insomma farà sicuramente un focus soprattutto sui perché parliamo adesso invece di comunità energetiche Lions Club Arezzo Nord-Est e Destra Clima si è interrogata su questo importante argomento anche in questo caso del nostro futuro immediato nei giorni scorsi ad Arezzo è una nuova forma di democrazia partecipativa dal basso anche su un tema così importante come quello dell'energia sia sul sociale perché in questa maniera possiamo avere un risparmio energetico minore bollette minore costi e dall'altra parte un minore inquinamento ad Arezzo si è così parlato di comunità energetiche rinnovabili un convegno organizzato dal Lions Club Arezzo e Destra Clima perché uno degli scopi del Lions come service e anche l'ambiente e pertanto abbiamo voluto con impegno il nostro Lions Club Arezzo Nord-Est fare con Estra questo incontro questo convegno sulle energie sulle comunità energetiche rinnovabili scopo del convegno quello di informare sul tema ambientale localmente soprattutto nel segno dei rinnovabili possiamo e dobbiamo investire per avere un minimo di autonomia e dare anche una risposta ambientale sociale ed economica le comunità energetiche sono uno strumento da valorizzare perché rappresentano una nuova forma di incentivazione che ricorda il vecchio conto energia ma che è una formula diciamo nuova che mette al centro il consumatore sia nella forma singola che collettivamente si può andare a produrre energia pulita a condividerla e a guadagnarci anche per dare una risposta alla povertà energetica che è un fenomeno che coinvolge sempre più famiglie italiane Estraclima infine ha già messo a punto un progetto operativo CER l'energia della condivisione il ruolo di Estra è quello di dare supporto a queste nuove realtà che sorgeranno sono associazioni principalmente gruppi che condivideranno energia da fonte rinnovabili quindi un impulso importante per la decarbonizzazione per la sostenibilità energetica anche per la povertà energetica Estra supporta tutto questo mediante piattaforme software mediante consulenza mediante la gestione appunto della ripartizione dell'energia e della ripartizione degli incentivi che lo Stato prevede Un asilo a una scuola dell'infanzia alla Modesta Rossi chiusi per una giornata il prossimo giovedì 23 novembre a stabilirlo è un'ordinanza del sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli il provvedimento si è reso necessario quando è arrivata la comunicazione della società che distribuisce la energia elettrica è prevista infatti una interruzione per dei lavori per tutta la giornata e quindi non potendo riscaldare gli ambienti appunto i due plessi rimangono chiusi difesa del suolo nell'incontro organizzato dall'associazione Intratevere Tarno nell'ambito della scuola di formazione civica la relatrice è stata la consigliera regionale del PD Lucia De Robertis e questa sera l'intero incontro andrà in onda su Arezzo TV alle 21 in esclusiva sentiamo oggi siamo a Castiglionfiorentino nel liceo scientifico di Castiglionfiorentino viene tenuta una lezione di educazione civica grazie al provveditorato agli studi che oggi il cui capo oggi si chiama dirigente scolastico provinciale nelle scuole superiori della provincia di Arezzo ogni mese un personaggio di rilievo esperto in una qualche materia che sia di interesse dell'educazione civica racconta spiega colloquia con gli studenti relativamente all'argomento che sia interessante per l'educazione civica oggi il consigliere regionale la dottoressa Lucia De Robertis parlerà di ambiente ma non di ambiente in modo generico e consentitemi abusato come spesso si legge nei giornali e anche nelle televisioni si sente nelle televisioni ma concretamente cosa può fare un ente pubblico la regione in questo caso per migliorare l'ambiente per conservare l'ambiente in cui viviamo vorremmo oggi far comprendere ai ragazzi qual è il ruolo dello Stato da una parte dalla regione dall'altra per tutelare l'ambiente promuovere le risorse che abbiamo proteggere quello che abbiamo per consegnare a loro un mondo in cui si possa vivere meglio è a volte un po' scontato lo diceva il dottor Tenti parlare di ambiente immaginiamo che l'ambiente sia una cosa astratta lontano da noi sul quale non possiamo incidere invece è proprio tutto il contrario chi come me è chiamato a legiferare su questa materia deve avere una visione che parte dal proprio territorio per arrivare fino alla propria regione i ragazzi devono capire chi è che ha competenze a fare che cosa se no ci sfugge un po' chi è che fa e chi è che non fa torniamo a parlare di donne uno spettacolo per omaggiare il contributo femminile al progresso è previsto al MUMEC il museo dei mezzi di comunicazione si parla di donne si parla dell'approccio della donna al mondo scientifico un mondo che è sempre stato prettamente maschile che un po' lo è ancora ma con questo spettacolo che ha che organizza qui all'interno di un posto che parla proprio di scienza è uno spettacolo proprio rivolto alla storia di queste donne che hanno combattuto per i loro progetti i loro ideali che hanno ottenuto ottimi risultati che poi nel corso della storia sono stati da tutti riconosciuti sei donne che hanno cambiato il mondo uno spettacolo per omaggiare il contributo femminile al progresso della società al MUMEC venerdì 24 novembre alla vigilia della giornata internazionale contro la violenza sulle donne nel loro periodo insomma hanno avuto delle grandi difficoltà perché lavorare nella scienza nella ricerca o nella scoperta era prettamente maschile insomma ci sono state delle persone che hanno avuto il premio Nobel e non erano loro l'iniziativa ad ingresso libero e gratuito è inserita all'interno del progetto Donne Scienza promosso dalle ACLI di Arezzo con la partecipazione dell'istituto comprensivo 4 novembre noi lavoriamo in un istituto comprensivo con un'altissima presenza di bambini e bambine straniere bambine qualche volta per le quali nella loro cultura di provenienza già il venire a scuola è una grossa conquista e proprio pensando a loro abbiamo sposato in pieno questo progetto che parla di donne parla di scienza e parla di donne che hanno avuto un grande successo e grandi risultati nel mondo scientifico che era all'epoca in cui sono vissute prettamente maschile questo ha un grande messaggio al di là della conoscenza e delle attività che faremo che sono tante teatro divulgazione scientifica esperienze dimostrazioni scientifiche di vario genere cinema ci consente anche di passare un messaggio educativo importante che è quello che l'intelligenza delle ragazze è un'intelligenza di cui abbiamo bisogno ancora un weekend con le attrazioni aperte i mercatini tirolesi in piazza grande quello passato ha visto il sold out in tutte le strutture alberghiere e così sarà dice Laura Lodone responsabile del settore turismo di Confcommercio Toscana anche per il prossimo fine settimana per la festa dell'immacolata tra l'altro un ponte anche in questo caso che cade proprio in un fine settimana gli alberghi sono già al completo da un mese ad Arezzo i turisti arrivano da tutta Italia con nuove regioni che non vogliono perdersi lo spettacolo in piazza grande e al prato oltre a Lazio la campagna e l'Umbria anche le Marche e la Liguria una lettera ad ogni Natale pensieri che per vent'anni raccontano cosa siamo diventati e forse come non dovremmo più essere dalla nostalgia della festa vista con gli occhi di un bambino che comincia con la raccolta proprio della borracina nei boschi per fare il presepe alla consapevolezza che tutto è stato brutalmente soppiantato dalle multinazionali della felicità Mario Rotta ha messo proprio queste riflessioni nel suo libro Lettere al Natale che verrà presentato venerdì prossimo 24 novembre alle 18 alla libreria Feltrinelli di Arezzo e siamo allo sport quest'ultimo appunto insieme alla musica e allo spettacolo sono gli ingredienti della 26esima edizione delle stelle del ring Sport, musica e spettacolo per la 26esima edizione delle stelle del ring Sarà un evento impertibile c'è tanta attesa ed emozione per questo evento Il Gran Galà dedicato agli sport di combattimento è in calendario domenica 26 novembre al Palace Sport Estra Mario D'Agata dove si rinnoverà l'appuntamento con un evento che sta acquisendo una dimensione sempre più internazionale Gli eventi sportivi sono importanti per la città non solo dal loro punto di vista sportivo ma anche per il richiamo di persone che appunto si portano dietro questo è un grande evento con 14 incontri con la musica appunto con due cantanti che si uniranno allo spettacolo vero e proprio quindi tante persone sono attese anche da fuori Arezzo da fuori regione che parteciperanno non a caso il Comune dà un patrocino e un contributo per la realizzazione di questo evento tra l'altro è un evento che poi si inserisce in questo magico momento della città con tutti gli eventi natalizi quindi un evento sportivo che animerà anche il Parasport Estra Il programma di combattimento al Viale 17 vedrà sfidarsi alcuni dei maggiori rappresentanti del panorama del kickboxing e troverà il proprio cuore nell'assegnazione di due titoli europei un titolo intercontinentale e un titolo italiano vorrei ringraziare tutti i ragazzi che saranno presenti allo staff tutti gli atleti che comunque sia hanno avuto interesse perché c'è gente abbastanza importante in questo mondo del nostro sport che vengono a combattere il nostro evento e ci fa molto onore il tennis giotto in campo nei playoff per la serie A1 la prima squadra maschile del circolo Aretino ha chiuso al secondo posto la prima fase di A2 e da neopromossa nell'importante campionato nazionale è stata protagonista di un cammino particolarmente positivo che è valso l'accesso agli spareggi per la promozione il primo turno dei playoff è fissato per le 10 di domenica 26 novembre sui campi di via divisione Garibaldi il tennis giotto incontrerà in una sfida secca il canottieri Padova è tutto per questa edizione del nostro telegiornale vi lascio allora alla lezione tenuta da Lucia De Robertis consigliera regionale del partito democratico nell'ambito della scuola di formazione civica come sappiamo organizzata da Intratevere e Tarno l'argomento di questa sera sarà il rischio idrogeologico buona visione arrivederci grazie a tutti